Stiamo per iniziare una storia piena di colpi di scena e avventure sorprendenti. Comincia così, il resoconto del capitano Charles Johnson nel suo libro Storia Generale dei Pirati. Il soggetto di una così bella introduzione è una delle figure più affascinanti della cosiddetta età d'oro della pirateria, ovvero Anne Bonny. Gli strani incidenti della sua vita sconclusionata sono tali che alcuni potrebbero pensare che l'intera vicenda appartenga a un romanzo o a una storia d'amore, dice il capitano Johnson. E invece tutto ciò che riguarda Anne Bonny è supportato da molte migliaia di testimoni, ovvero il popolo della Giamaica che era presente ai processi pubblici che la riguardarono e aveva ascoltato la sua storia. Una verità che non può essere contestata al pari delle vite di altri grandi pirati come Roberts e Barba Nera. Con tali sfavillanti premesse, queste le parole dell'autore del resoconto, tuffiamoci subito nella vita di questa sconclusionata piratessa che prima ancora della sua nascita prometteva già fuoco e fiamme. Perché Costei nacque in Irlanda come figlia illegittima di un avvocato, una bastarda, insomma, la cui esistenza è dovuta all'infedeltà di un uomo che, dopo aver spedito la moglie malata dalla suocera fuori città per farle prendere un po' d'aria buona, rimase solo in questa grande e ricca casa con la compagnia della servitù e in particolare di una giovane serva particolarmente attiva a livello sentimentale. La serva, infatti, era corteggiata da un ragazzo del luogo, un conciatore, e i due si vedevano di nascosto in questa grande casa che praticamente era quasi sempre vuota, visto che la padrona che era malata stava dalla suocera lontano e il padrone spesso stava fuori per lavoro. I due quindi passavano del piacevole tempo libero assieme. Un giorno, mentre la serva era impegnata nelle faccende domestiche, questo conciatore approfittò di un momento di distrazione per rubare tre cucchiai d'argento dalla casa. La serva se ne accorse subito e, indignata, forse anche un po' spaventata per un'eventuale perdita del proprio posto di lavoro, minacciò di denunciarlo alle autorità. E il conciatore, che in fondo non era un ladro di mestiere, ma si era solo lasciato andare all'opportunità, in maniera anche piuttosto ingenua, cercò di calmare la serva, suggerendole di cercare cucchiai nei cassetti o in altri posti. Poi si recò nella stanza della serva e nascose questi cucchiai tra le lenzuola ripiegate in un cassetto. In questo modo era certo che la serva li avrebbe trovati lì, magari la sera stessa, perché era la sua stanza, quindi lei usava aprire in continuazione quei cassetti, così da giustificare come se si fosse trattato solo di uno scherzetto e allora il conciatore se ne andò via tranquillo dalla casa. La serva, però, era convinta che il conciatore avesse davvero rubato quei cucchiai d'argento, quindi smise di cercarli e si recò dalle autorità, come aveva già detto, per denunciare il furto. Qualche giorno dopo il conciatore venne a sapere della denuncia e del fatto che fosse ricercato. Spaventato non seppe cos'altro fare se non nascondersi. E non riusciva a capire come fosse possibile che lei non li avesse ancora trovati quei cucchiai. Stavano proprio nei suoi cassetti, che apriva tutti i giorni. A quel punto il pensiero, il pensiero maligno che la serba avesse intenzione di tenersi cucchiai per sé e fregarlo, addossandogli la colpa del furto, cominciò a farsi strada nella sua testa. Proprio in quel momento la padrona di casa, completamente guarita dal suo malessere, fece il ritorno accompagnata dalla suocera. La prima cosa che apprese quando mise piede in casa fu la notizia della sparizione dei cucchiai e interrogata la serva, si fece raccontare tutto, compresa la fuga del conciatore. A quel punto però anche il conciatore venne a sapere del ritorno della padrona e capì che era il momento buono per chiarire la faccenda. Siccome la donna era di buon carattere, decise di palesarsi e raccontare tutta la verità. Non gli restava da fare altro, dopo tutto. Quindi, a parte il fatto che quei cucchiai li voleva rubare per davvero, ma che poi se n'era pentito, raccontò tutto trasformandolo in una sorta di scherzo, però disse per il resto la verità e la padrona stentò a crederci. Ma andò comunque nella stanza della serva a vedere e, sollevando le coperte nel cassetto, trovò con grande sorpresa questi benedetti tre cucchiai d'argento. A quel punto ordinò al conciatore di tornare a casa e di non preoccuparsi mai più della faccenda, perché tutta la questione dei cucchiai adesso era passata immediatamente in secondo piano. La padrona aveva capito all'istante il vero motivo per cui la serva non era riuscita a trovare quei cucchiai rimasti tutto il tempo nella sua stanza, in quei cassetti, che per forza di cose avrebbe dovuto aprire prima o poi, perché erano i suoi cassetti, e così faceva ogni giorno, visto che dormiva lì. Ma il fatto è che la serva, però, nel periodo di assenza della padrona, non aveva mai dormito nella sua stanza. Ed ecco che in un lampo alla padrona le vennero in mente tutti i gesti di gentilezza che suo marito aveva avuto nei confronti della serva. Azioni che lì per lì non le erano mai sembrate niente di speciale, ma che adesso, alimentate dalla gelosia, diventavano prove evidenti dell'adulterio. La verità è che la serva aveva dormito ogni notte col padrone, suo marito, mentre lei se ne stava dalla suocera. Un altro indizio era il fatto che il marito non l'aveva mai contattata per tutto il tempo che riguardava mesi e mesi di degenza. Il fatto che al momento del suo ritorno, quel giorno, nonostante il marito sapeva che stava tornando la moglie, ecco, il marito aveva deciso di assentarsi dalla città con una scusa banale, quindi senza manco aver voluto accoglierla per riabbracciarla, dopo mesi. Poiché le donne raramente perdonano tali offese, dice il capitano Johnson, la padrona tramò quindi vendetta, a cominciare dalla serva. Per farlo lasciò i cucchiai che aveva appena trovato dove li aveva trovati e ordinò alla serva di mettere le lenzuola pulite sul letto della serva. Perché la padrona disse che avrebbe dormito lì quella notte, visto che la suocera avrebbe usato il suo letto e la serva doveva quindi trovarsi un'altra stanza dove dormire. Una scusa, una scusa qualsiasi. La cameriera ubbidì e quando si mise a rifare il letto, aprendo i cassetti, trovò finalmente i cucchiai. Ora però, dopo tutto quello che era successo, non poteva certo uscirse fuori dal nulla con l'argenteria rubata in mano. Presumibilmente, quindi presa dal panico, senza sapere bene cosa fare, l'inascose nel suo baule, per prendere tempo, magari per pensare cosa fare in una così complicata situazione nella quale si era andata a cacciare. Insomma, per cercare di trovare una soluzione. Tutto come previsto dalla padrona, la quale infatti proseguì col suo diabolico piano e andò a dormire nella stanza della serva. Cosa successe? A quel punto che di notte la porta si aprì ed entrò furtivo suo marito, il padrone, il quale nel buio completo chiese «Mary, sei sveglia?» Il fatto è che la padrona non si chiamava Mary. Mary era il nome della serva. Ed ecco la prova schiacciante ciò che voleva sapere la padrona e che fu costretta a vivere sulla sua stessa pelle perché il padrone, che era buio, dopo aver chiesto anche senza risposta, si infilò nel letto perché era vigoroso e voglioso e quindi fece l'amante senza sapere che la figura silenziosa che giaceva sotto le coperte era sua moglie. Wow! La padrona lasciò correre, quindi fece finta di niente e stette al gioco. Al mattino presto però sgattaiolò via dal letto e andò a raccontare tutto alla suocera la quale rimase inorridita dal comportamento del suo figliolo. La pace coniugale ormai ovviamente era infranta. Queste due donne volevano andarsene senza mai più tornare, pure la madre del padrone. Prima di abbandonare per sempre la casa però accusarono la serva di furto. Le guardie entrarono in casa, cercarono dappertutto e trovarono i cucchiai nel baule della serva dove lei stessa li aveva messi stavolta. E la giovane fu quindi incastrata e gettata in prigione in attesa del processo. Un periodo lungo circa sei mesi che culminò fino al giorno del processo quando fu evidente a tutti che la serva era incinta. Il processo quindi andò avanti ma visto le circostanze e vista l'assenza di prove la ragazza fu scagionata. Si fece sei mesi di carcere però alla fine ricevette una soluzione. Una soluzione che fu resa anche possibile grazie alla padrona la quale si rifiutò infine di testimoniare contro la serva forse pentita di aver spinto così tanto la sua brama di vendetta. Dopotutto lei era giovane, ingenua forse stupida ma non meritava di stare in prigione soprattutto adesso che aspettava un bambino anzi una bambina. La serva partorì questa bella bambina e il padrone decise di tenerla con sé assieme alla madre la serva ma come se non bastasse pure la sua moglie legittima la padrona adesso era incinta e visto che lui era sicuro di non aver mai fatto all'amore con lei negli ultimi mesi perché quella volta che l'ha fatto pensava che fosse stata la serva ecco pure il padrone accusò la moglie di adulterio. Insomma la famiglia a questo punto era devastata da tribolazioni inganni e come ciliegina sulla torta la suocera la madre del padrone tirò le cuoia intestando tutto quanto alla nuora perché aveva odiato il comportamento del figlio tanto da diseredarlo ed ecco che il padrone adesso non era più padrone di nulla rimasto senza soldi con una serva come compagna e una bambina bastarda da accudire una bambina che socialmente non sarebbe stata ben vista da nessuno e che il padrone ebbe la bella idea di mascherare da maschietto per tutto il tempo in cui abitava con lui spacciandola per il figlio di un certo parente ma si trattava di un precario teatrino perché la verità venne allo scoperto e le disavventure di quella famiglia finirono sulla bocca di tutti la loro reputazione era rovinata e di soldi non ne aveva più questo ex padrone privato della rendita dei possedimenti di tutto quanto riuscì a strappare un assegno da parte della moglie impietosita da questa situazione tanto per sopravvivere e si mantenne così per qualche tempo con un pezzettino di rendita passato per le mani di sua moglie ma le cose divennero davvero insostenibili finché non maturò l'idea questo ex padrone di andarsene da qualche altra parte per ricominciare tutto da capo dove nel nuovo mondo ovviamente quel che un tempo era uno stimato avvocato irlandese si riconvertì a proprietario terriero mettendo su in piedi una piantagione che si rivelò un'ottima fonte di reddito e quindi riuscì a formarsi una nuova vita con la sua nuova famiglia e la bambina cresciuta negli abiti di un maschietto poté finalmente vestire i panni di una damigella del suo tempo ma ormai lei ci era abituata a quei pantaloni e a quelle camice così come era abituata a frequentare compagnie maschili e a comportarsi come un maschio come i più irruenti per giunta perché il suo temperamento era feroce una ragazza coraggiosa senza dubbio che da subito fece circolare molte storie sul suo conto una di queste affermava che una volta cresciuta avesse ucciso una cameriera inglese e un impeto di rabbia usando un coltello nella stessa casa del padre tuttavia si tratta di una storia priva di fondamento dice il capitano Johnson un'altra storia invece era assolutamente vera ovvero di quando un giovane aveva tentato di imporsi su di lei e lei gli dede un tale pestaggio a quel disgraziato che lo lasciò malato per un tempo considerevole la ragazza voleva scegliersi i propri spasimanti da sola senza alcuna costrizione ed è quello che fece sposando un giovane marinaio alla svelta senza il consenso di suo padre un marinaio tra l'altro povero in canna scampato a chissà quale pendaglio da forca per buscarsi una fetta del patrimonio terriero che la ragazza prima o poi avrebbe ereditato ma il padre non ci stava mise da parte tutto l'amore che aveva avuto per quella figliola e la rinnegò quindi lei assieme al marinaio fuggì fuggì sull'isola di Providence ma il suo temperamento non le consentì di stabilirsi come avrebbe fatto una persona normale con un lavoro e il proprio marito cui essere ubbidiente soprattutto quest'ultimo obbligo le stava stretto e a quanto pare diamanti se ne fece molti l'ultimo dei quali fu un certo John Rackham conosciuto dai più come Calico Jack sì un capitano pirata e anche piuttosto famoso ed è a questo punto che il nome della nostra eroina cominciò a spargersi per i sette mari Anne Bonny la piratessa spada in una mano e pistola nell'altra fianco a fianco con quel Calico Jack il cui Jolly Roger consisteva in un teschio con due sciabole incrociate o un classico dei classici qualsiasi donna si sarebbe sentita intimidita al suo cospetto di un capitano così famoso ma non lei Anne Bonny era coraggiosa Anne Bonny era feroce a tal punto dai retire completamente Calico Jack il quale sembrerebbe che non pensasse altro che a lei dice il capitano Johnson che Calico Jack spese tutti i soldi che aveva per Anne Bonny persino gli ultimi preziosi accumulati grazie a un importante incarico da Corsaro perché a un certo punto della sua carriera di pirata fu perdonato e assoldato ufficialmente per fronteggiare il nemico spagnolo un ingaggio di notevole successo che valse a lui e alla sua ciurma diversi premi e bottini tra cui due interi carichi di cocco e zucchero il ricavato della vendita del bottino era considerevole ma Calico Jack lo spese tutto alla svelta tutto per lei per godersi la sua amata nel lusso più sfrenato Anne Bonny dal canto suo cominciò ad apprezzare la vita da filibustiere tra le braccia di un sì rinomato capitano e propose a Calico Jack di pagare suo marito che ancora stava da qualche parte a Providence al fine di convincerlo a divorziare con un documento firmato tutto per bene un'idea che sembrava funzionare se non fosse che tale proposta fece il giro della città lo stesso governatore venendone a conoscenza si intromise nella questione minacciando Anne Bonny di spedirla in prigione e di ordinare che fosse frustata dallo stesso Calico Jack se non avesse smesso con quella vita dissoluta ma perché questa intromissione così esagerata addirittura da parte del governatore il fatto è che questa situazione ormai non riguardava più soltanto il matrimonio di Anne Bonny è evidente qui si parla di una gran quantità di pirati beneficiari di un perdono ufficiale che gravitavano attorno al porto di Providence in quanto corsari ma come dice il detto riguardo il lupo nonostante la perdita del pelo questi pirati avrebbero potuto avere una ricaduta nello stesso vizietto e Anne Bonny in quel frangente era una miccia accesa in mezzo a una polveriera di questo se ne erano resi conto tutti visto come manipolava il capitano Calico Jack magari anche di proposito chi lo sa alle minacce del governatore Anne Bonny promise di mettere la testa a posto di tornare a vivere con suo marito di smetterla con i pirati ma come possiamo immaginare erano tutte balle perché lei e Calico Jack avevano intenzione di attuare il piano definitivo garantendosi un futuro d'amore di libertà in barba a costrizioni e lettere di corsa decisero quindi di scappare insieme e godersela a dispetto di tutto il mondo per far ciò avevano bisogno di un elemento fondamentale una nave Calico Jack a quel tempo aveva svolto un incarico come corsaro ma in quanto ex pirata non godeva della libertà di radunare una ciurma in mezzo al porto davanti a tutti e salpare quando e dove gli pareva anzi sarei propenso a pensare che fosse tenuto d'occhio costantemente inoltre nel resoconto del capitano Johnson non si menziona una nave di sua proprietà ancorata a Providence di cui poteva disporre quando voleva insomma possiamo dedurre che Calico Jack fosse tenuto in una sorta di libertà vigilata e che la nave quindi doveva prendersela da qualche parte e anche in maniera furtiva cosa che fece lui ed Anne Bonny complottarono insieme per catturare uno sloop che allora si trovava nel porto e assieme a loro radunarono alcuni giovani vivaci e fidati si trattava di un gruppo di pirati recentemente graziati già stanchi di lavorare a terra e desiderosi di riprendere il loro vecchio mestiere e la tanto decantata libertà lo sloop che scelsero era tra le 30 e le 40 tonnellate una delle navi più veloci mai costruite di quella stazza apparteneva a un certo John Hammond che viveva su una piccola isola non lontano da Providence un'isola che non era abitata da alcuna creatura umana tranne che lui e la sua famiglia perché aveva moglie e figli quel John Hammond era un corsaro che si manteneva con i saccheggi e lo faceva egregiamente sorprendendo i nemici per catturare preziosi bottini e poi filarsela via veloce come il vento tanto veloce col suo sloop che era stato coniato un detto a Providence che può essere tradotto più o meno così ecco John Hammond prendilo se ci riesci questo tale corsaro si trovava a Providence perché pensava di trasferirsi lì con la famiglia lasciando la solitudine e la pericolosità di un'isola disabitata e magari piantarla con la guerra di corsa dopo tutto di nemici se ne era fatti tanti tra gli spagnoli e vivere da solo con la moglie e i figli in mezzo al mare dava qualche pensiero con queste premesse e le voci che giravano sulla velocità di questo sloop il bersaglio fu presto scelto e M. Bonny cominciò a far visita alla nave di questo corsaro e ai pochi uomini che la presidiavano salendo pure a bordo perché fingeva di avere degli affari da discutere con questo corsaro anche se sceglieva sempre i momenti in cui lui non era mai a bordo così poteva farsi un giretto ispezionare tutto quanto senza destare sospetti e allora scoprì quanti marinai venivano lasciati di solito a bordo ovvero due più o meno che tipo di guardia facevano studiò la nave stessa imparando come muoversi al meglio su quelle assi fece anche molte domande e tutto quel che scopriva lo andava poi a raccontare al suo amato capitano potrebbe essere che M. Bonny per svolgere questo incarico di spionaggio si fosse anche travestita magari da uomo come aveva imparato a fingere per tutta l'infanzia ma non viene specificato nel resoconto in ogni caso la missione ebbe successo i pirati di Calico Jack nel numero di 8 si prepararono alla fase successiva del piano la più rischiosa prendere la nave fissarono di incontrarsi in un certo punto della costa a mezzanotte dove non sarebbero stati scorti salirono su una scialuppa e remarono in direzione dello sloop che stava ancorato non troppo lontano dalla riva erano manco a dirlo armati fino ai denti compresa M. Bonny che impugnava la pistola con una mano e la spada con l'altra la notte era perfetta buia leggermente piovosa un tempo da bucanieri i pirati si accostarono alla nave silenziosamente salirono a bordo e M. Bonny in testa si diresse alla cabina dove si trovavano i due corsari di guardia spianò spada e pistola contro di loro e disse che se avrebbero emesso un solo fiato gli avrebbe fatto saltare il cervello battuta riportata testualmente dal capitano Johnson mentre M. Bonny più che a suo agio nel suo primo incarico piratesco faceva prigionieri coi due Calico Jack e gli altri si davano da fare per salpare tenendo bene a mente però che non potevano semplicemente issare le vele e andarsene perché si trovavano nel porto di una grande città piena di navi di guardie con un forte presidiato a guardia di quelle acque se avessero destato dei sospetti qualcuno sarebbe subito partito all'inseguimento cosa che non volevano assolutamente perciò issarono solo una piccola vela e scivolarono lentamente attraverso il porto subito dal forte gli scorsero e non appena furono vicini le guardie gridarono loro contro chiedendo dove stessero andando e Calico Jack rispose di essersi trovato con la fune dell'ancora spezzata che il rampino non bastava trattenerli adesso insomma si sarebbero ancorati più in là una scusa semplice fingere un problema da poco cose che capitano per cui non c'era niente di cui preoccuparsi infatti le guardie lo lasciarono andare e quando giunsero lentamente all'imboccatura del porto lontano dal forte si accertarono di non essere visti da nessuna delle altre navi di essere abbastanza lontani anche grazie all'oscurità di quella notte un po' piovosa allora essarono tutte le vele che avevano e presero il mare ce l'avevano fatta convocati due corsari prigionieri sul ponte di coperta chiesero loro se volevano far parte della ciurma ma non vedendoli disposti gli diedero una barca per remare fino a riva e per consegnare un messaggio per il corsaro Hammond costui poteva dormire suoni tranquilli perché Calico Jack ed Anne Bonny gli avrebbero ridato lo sloop prima o poi a cose fatte parola di pirata dopo tutto non ce l'avevano personalmente con lui no prima ancora di partire per l'avventura però c'era un'ultima questione da sbrigare si trattava di un certo Richard Tunley al quale Anne Bonny aveva chiesto di essere testimone dello scritto che suo marito avrebbe dovuto firmare per il divorzio no Tunley aveva rifiutato di fare da testimone e non solo era stato lui a informare il governatore della faccenda scatenando tutto il putiferio insomma una persona che in quel momento la coppia di pirati odiava più di ogni altra e per la quale avevano giurato vendetta Tunley si era già andato da Providence prima che scappassero questi due perché dopo aver spifferato tutto sapeva di essersi fatto dei nemici pericolosi e aveva ragione perché Jack e Bonny erano riusciti a conoscere l'isola in cui si era rifugiato questo spione e si diressero là prima di andare da qualsiasi altra parte una volta giunti a destinazione scorsero la nave di Tunley ancorata circa una lega dalla riva la abbordarono senza spargimento di sangue e salirono a bordo con sei uomini tutto ciò fu possibile perché gli uomini di Tunley avevano riconosciuto i pirati e si erano arresi subito consapevoli che se non avessero opposto alcuna resistenza non sarebbe accaduto loro niente di male e fecero questo anche perché Tunley per sua buona fortuna si trovava a terra a salare alcuni maiali selvatici che avevano ucciso il giorno prima per una bella festa però questa festa fu interrotta i pirati salirono su una scialuppa remarono verso terra per cercarlo e Tunley che aveva visto tutto dalla spiaggia si accorse di quegli uomini che avevano abordato la sua nave e adesso si dirigevano verso la riva quindi temendo che fossero proprio pirati fuggì nel bosco Jack e Bonnie scesero armati fino ai denti e chiamarono a gran voce Tunley questi però infilato nei cespugli col cavolo che rispondeva guardandosi attorno in mezzo al niente i pirati arrivarono alla conclusione di non aver alcuna voglia di mettersi a cercare quel disgraziato in mezzo al bosco tornarono quindi sulla nave la nave dello spione e portarono via tutto quanto pure le vele la spogliarono da cima a fondo e si portarono via pure tre uomini che volero unirsi alla loro ciurma mozzarono poi l'albero maestro legarono questa nave ormai deturpata al loro fiammante e velocissimo sloop e la rimorchiarono in acque profonde dove la affondarono definitivamente interessante che abbiano faticato così tanto per affondarla lontano dalla riva i membri della ciurma dello spione che non erano stati scelti per arruolarsi coi pirati furono messi su una barca e mandati a riva per riferire un messaggio al loro capitano qualora avesse voluto uscire dai cespugli cosa che fece dopo un po' per sentirsi dire dai suoi che se Jack e Bonnie fossero riusciti a trovarlo l'avrebbero frustato a morte la stessa punizione che il governatore aveva usato per minacciarli dopo la soffiata in ogni caso adesso erano liberi liberi di andare dove volevano con una ciurma una bella nave veloce il mare a loro disposizione una leggenda quella di Anne Bonny appena iniziata perché navigò a lungo in compagnia di Calico Jack e i due abbordarono e saccheggiarono molte navi facendo bottino raccogliendo seguaci diventando una piaga del mar dei Caraibi eppure oltre la piratessa in particolare era considerata la più coraggiosa e intraprendente della ciurma che spada e pistola in pugno non si arrendeva manco nelle situazioni più disperate quando ben pochi uomini rimanevano a combattere sul ponte fino all'ultimo sangue finché un giorno a turbare l'equilibrio di questa coppia di pirati non giunse un'altra donna un'altra sanguinaria della stessa stoffa di Bonny un'altra piratessa appartenente al gentil sesso che di gentile in questo caso non ci aveva proprio nulla ma del triangolo d'amore bombe a mano pistolettate sciabolate in faccia tra i pirati più famosi della storia della pirateria ne parlerò nel prossimo episodio seguimi per non perderlo alla prossima leggende affilate gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara grazie a tutti